La nostra regione è interessata da un flusso di correnti umide e temperate di natura oceanica che determinano passaggi nuvolosi per lo più innocui. Tuttavia, tra il pomeriggio e la serata saremo interessati da un modesto fronte perturbato che determinerà locali piovaschi a carattere sparso. L'alta pressione delle azzorre si mantiene lontano dal Mediterraneo, posizionando i suoi massimi di pressione in pieno oceano atlantico, consentendo così l'arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di domenica. Ma non finisce qui, poiché tale anticiclone, nei primi giorni della prossima settimana, proverà a mettere uno sgambetto alla primavera italiana, determinando, proprio in prossimità del suo esordio astronomico, una fase di tempo spiccatamente invernale. Ma occupiamoci prima del tempo previsto per questo fine settimana. Domani, sabato, 13 marzo, iniziali condizioni di cielo nuvoloso con residui piovaschi sparsi, più probabili sul settore centro-meridionale della regione. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà a dissolversi con fenomeni in rapido esaurimento. Temperature senza particolari variazioni, venti deboli a tratti moderati occidentali e mare da mosso a poco mosso. Domenica 14 cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità, con associate precipitazioni che, dal casertano e napoletano, si estenderanno al resto della regione nel corso della giornata. Tra il pomeriggio e la serata saranno possibili nevicate in appennino a quote superiori ai 1200-1300 metri, ma con limite in calo durante la notte successiva fin sugli 800.000 metri. Temperature insensibile diminuzione dal pomeriggio sera. Venti da moderati a forti occidentali, con tendenza disporsi da nord dalla serata. Mare molto mosso o agitato, localmente molto agitato a largo. Lunedì l'alta pressione si espanderà con decisione verso il nord Europa, determinando una configurazione anomala, la quale, nei giorni successivi, opererà un blocco alle miti correnti oceaniche. La nostra penisola sarà esposta così per più giorni a correnti fredde di origine polare, con la formazione di vari minimi depressionari sui mari italiani. Freddo e precipitazioni dunque, che col passare dei giorni assumeranno carattere nevoso fino a quote altocollinari. In particolare, tra mercoledì 17 e giovedì 18 marzo, come possiamo apprezzare sulla cartina prevista dal centro europeo di Reading, l'alta pressione oceanica si spingerà ben oltre la Scandinavia, operando così un blocco completo al flusso temperato atlantico. Sul Mediterraneo affluirà in questo modo aria ulteriormente fredda, che andrà a determinare precipitazioni nevose nelle aree montuose e localmente di media alta collina. Una situazione tipicamente invernale ci attende dunque per la prossima settimana, la quale potrebbe prolungarsi almeno fino all'esordio della primavera astronomica, che ricordo quest'anno avrà inizio il 20 marzo. Invito, come sempre, i telespettatori a seguire questa delicata evoluzione sul gruppo Facebook Meteo Cilento e a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile